Violento schianto a l'ora di pranzo a due ville all'incrocio semaforico fra le vie Santa Fosca, Sant'Anna e Rossi. L'incidente fra due auto avvenuto intorno alle 13.30. Una Volkswagen Polo condotta da MN 38enne del posto proveniente dal nord da via Sant'Anna nell'effettuare la svolta a sinistra per poi proseguire in direzione Passo di Riva è stata colpita frontalmente per causa in corso d'accertamento da una Ford Fiesta condotta da TS 41enne di Tezze su Brenta proveniva da via Santa Fosca. Entrambi i guidatori coinvolti nel voto non hanno dovuto ricorrere all'intervento dei sanitari. Ingetti invece i danni e due mezzi sul posto due pattuglie della polizia locale in nord-est Vicentino per i rivievi del sinistro della regolazione del traffico.